Passa montagne, Tegman Duo Thermal, invernale. Questo è stato realizzato con un materiale composito di poliestere per un 95% e un 5% di elastane. Il poliestere è un materiale termico invernale. L'elastane gli dà la giusta elasticità. In effetti vediamo che questo tessuto rigato per renderlo più resistente e flessibile è composto da un micropile a costine che lo rende traspirante e al tempo stesso elastico. Ottime cuciture, ben fatte, piatte, utilizzabile anche questo in due maniere, chiusa o aperta, o eventualmente si può abbassare e diventa un collare. È facilissimo da rimettere, infanto essendo taglia unica non necessita di scelta di taglia assolutamente, si porta molto comodamente e è un prodotto, è un prodotto NERG, distribuito alla Open Land ed è made in Italy.